potrebbero rappresentare un antico codice astronomico le incisioni scoperte nelle grotte del monte danigala nello sri lanka la spettacolare scoperta è stata fatta da un team di astrobiologi che ha individuato una serie di incisioni rupestri che potrebbero rappresentare un vero e proprio misterioso codice astronomico la particolarità del ritrovamento è di grande importanza infatti è stata fatta su un sito considerato sacro chiamato la montagna degli alieni dovuto ad una serie di avvistamenti di ufo alcuni dei file classificati rilasciati dagli archivi nazionali hanno rivelato che un ufficiale della raf sostiene di aver avuto in quel luogo un incontro ravvicinato durante una vacanza nello sri lanka danigala è una formazione geologica unica nel suo genere e secondo il sito web nazionale sulle attrazioni naturalistiche del paese la roccia è un punto di accesso per l'avvistamento di ufo conosciuto localmente come alien mountain in realtà secondo le antiche scritture trovate in zona sette secoli fa un'entità semi divina che era in grado di compiere il salto dei piani astrali veniva venerata in una grotta su questa strana roccia chiamata siddhartha gautama il buddha che appare in una statua in mattoni e stucco della grotta lunga circa 12 metri la direttrice amministrativa ricercatrice presso l'unità ricerche di astrobiologia e scienze della terra dell'ase del sud fa parte del team che ha trovato tali incisioni che ritengono possano essere legate all'astronomia rappresentando un possibile antico codice che potrebbe rappresentare un sistema di conteggio astronomico le incisioni scolpite occupano uno spazio importante dal momento che il petroglifo è lungo ben 7,5 metri e alto 5 al momento l'ipotesi che si tratti realmente di un antico codice astronomico rimane una teoria non ancora confermata che ricercatori indipendenti stanno valutando con cautela perché la scoperta oltre ad avere motivazioni puramente scientifiche non deve avere scopi come quello di gigantire le leggende intorno alla montagna sacra degli alieni e attirare ulteriormente i turisti